Io credo che, proprio perché le opere del bel canto italiano parlano soprattutto di sensibilità al femminile, sono soprattutto, per questo, sono contemporanee. Le donne in questo momento vivono finalmente un momento straordinario della loro storia e, in fondo, le eroine del bel canto italiano sono già un po' delle figure moderne per tutto quello che rappresentano, perché io credo che avranno un grande futuro, non solo un grande presente, perché in qualche modo possono descrivere, anche in un contesto storico come quello di Maria Stuarda, quelle che sono le problematiche e le sensibilità delle donne moderne. Grazie.